L'ondata di furti e di criminalità non risparmia la città di Eboli. Un'abitazione è stata svaliggiata nel rione paterno e i ladri, dopo averla messa a soccuadro, si sono impossessati di molti oggetti. Negli ultimi giorni ci sono stati anche altri tentativi di furto, ma gli episodi sono stati innumerevoli tra atti vandalici e furti. I cittadini sono stanchi della situazione e chiedono maggiore presenza delle forze dell'ordine. Oltre che un maggiore impegno da parte di Palazzo di Città, dato che di risposte ne sono arrivate ben poche. Seppur giusto sottolinearlo, le colpe non sono ascrivibili ai corpi di polizia. Gli ebolitani hanno deciso di scendere in campo con delle vere e proprie ronde per prefigare e pattugliare il centro abitato. Una scelta che viene però frenata dall'assessore al ramo Antonio Corsetto. Le telecamere ci sono, dichiara, ma servono a poco. Se i malviventi hanno il volto travisato, ma il discorso è diverso per le targhe delle auto. Siamo in continuo contatto col prefetto al quale abbiamo portato le nostre istanze e siamo stati ascoltati. Testimonianza di ciò sono i recenti arresti e un più capillare controllo da parte degli enti proposti.